Ed eccoci in questa chiesa monumentale, San Severino Abate, che si trova a San Severo. E che risale al XII secolo. Ieri, quando i nostri telespettatori hanno visto questa puntata, subito hanno iniziato a scrivere perché vogliono materiale, libri. Dovete vedere su internet, perché oggi internet ce l'hanno tutti, ci sono tante belle notizie, poi vi mettete in contatto con la parrocchia e loro sapranno darvi tutte le notizie. Io non sono uno storico, sono un ignorante in tutto. Punto. Torniamo a noi. Lo stupore. Questo stupore di cui dobbiamo riassaporare il gusto, come abbiamo ascoltato ieri, riflettendo su una considerazione di Divo Barsotti. Riappropriarci del gusto della bellezza nelle piccole cose, nella quotidianità, nella vita normale, nel sorriso di un bambino, nell'incontro con un anziano, né in un fiore che sboccia, eccetera. E questo stupore, questa bellezza, questo nostro saperci lasciar stupire, ci porta inevitabilmente, per chi ha un animo credente, a pregare. E per chi non crede, lasciatemi passare il termine, a una preghiera laica. E voglio leggervi un'altra riflessione, breve riflessione, che Barsotti fa in questo testo verso la visione, in quanto lui dice, io capisco, lui che ha vissuto la vita del mondo, capisco che è difficile saper cogliere la bellezza mentre vai in ufficio, mentre stai sul tram, o sul bus, oppure sul treno, oppure in metropolitana. I monaci sono più agevolati perché hanno una vita diversa. Eppure, dice Barsotti, è possibile cogliere questa presenza della bellezza che poi innesca in noi lo stupore. Bisogna che non si ottonda in noi il senso del sacro. Bisogna che siamo sollecitati continuamente a un incontro con Dio attraverso tutte le cose. Con un Dio che è bellezza più grande dei cieli, un Dio che è vastità più grande dei mari, ed è luce più pura del giorno, ed è notte più fonda, chiedo scusa, di ogni notte, ed è stabilità più ferma della roccia. Non sono questi i nomi di Dio? Dio è la roccia, è il fuoco, è la montagna, è il cielo. Non perché il mare, il cielo, non perché il fuoco si identifichino con Dio, ma perché nel fuoco, nella luce, nel mare, io non incontro che Lui. E qui ci viene in mente Francesco D'Assisi, che vedeva in ogni creatura la bellezza del Creatore. Ed è importante quello che abbiamo ascoltato. Perché delle volte il nostro cuore non riesce a cogliere il senso della bellezza? Perché non ci lasciamo stupire dalla bellezza anche artistica, architettonica? Perché? Perché in noi abbiamo ottenebrato il senso del sacro. Se io non mi ritengo figlio, creatura di una trascendenza, di qualcuno che mi trascende, se io escludo Dio, come faccio a cogliere la bellezza della sua presenza nelle cose? Grandi o meno grandi, ordinari o straordinari, come faccio a cogliere questa bellezza della sua presenza nella mia vita? Un interrogativo su cui dobbiamo riflettere. Io vi aspetto domani. Padre Pio TV, Ditto al Cuore. Ciao! Ciao! Ciao!